Buongiorno a tutti e ben ritornati o benvenuti al canale Oggi mi preparerò con voi e ho deciso di fare questo video più caldo per un motivo ovvero per provare l'Epic Ink Liner che vi avevo fatto vedere in un video che ve lo lascerò linkato qua sopra In realtà in quel video vi avevo fatto vedere solo l'aulo dei prodotti che avevo comprato che erano se non mi sbaglio i prodotti di NYX e di Mulac Oggi invece voglio proprio provare l'applicazione Io in realtà se mi seguite, voi lo sapete, non metto mai l'eyeliner Ma proprio mai, al massimo ho messo qualche matita con la colina, qualcosa di sfumato Ma l'eyeliner proprio penso che è una vita che non lo metto Però ho visto diverse recensioni di questo eyeliner e si dice che è il dupe di quello di Kat Von D E quindi dovrebbe essere proprio un buon eyeliner a un prezzo accessibile Forse vi avevo detto più dettagli in quell'aulo che vi ho linkato sopra prima Una cosa che mi ricordo è che per caricarlo bisogna diciamo spingere il tappino E in più la punta è fatta da tutte piccole sedole Adesso non so bene spiegarmi Come quello appunto di Kat Von D Per sapere comunque maggiori informazioni e più dettagliate Andate a vedere la recensione che ha fatto Clio Makeup Che sicuramente è molto molto più dettagliata, precisa e migliore di quello che vi potrei dire io Però prima di tutto cominciamo facendo la base Allora io ho già messo crema idratante e burro cacao E ultimamente la base la faccio utilizzando prima il correttore della Maybelline, quello nude Che ho ricomprato poco fa, vedete che è un nuovo Quest'altro mi era finito Scusate, ho gli occhi abbastanza stanchi E prima di fare il video in più avevo anche messo una mascherina Diciamo forma che contorna gli occhi Che in pratica va messa come il ghiaccio Nel congelatore o in frigorifero per 15 minuti O nel congelatore per 5 E la mettete per 10 minuti appoggiata sugli occhi Ha anche l'elastico per tenerla E vi sgonfia un po' gli occhi E vi manda via un po' la stanchezza Che invece un po' me l'ha mandata via Ma ancora sono un po' stanca in realtà Per diversi motivi Comunque ho messo il correttore dove ho le imperfezioni e i rossori E lo sto andando a sfumare con la sfugnetta inumidita Ovviamente questa è una base che non ha una coprenza altissima Dove vedo che mi ha coperto di meno infatti ne li vado a mettere un altro po' E poi in realtà andrò a mettere un altro correttore Per avere una maggiore coprenza Però faccio questa cosa perché in questo modo non metto il prodotto su tutto il viso Ma lo metto solo dove ho bisogno Infatti ora vado a mettere il mio solito correttore della Kiko Che penso tra un po' me lo tirate Perché lo metto sempre, lo dico in tutti i video E lo tampono con il dito qui dove nasce l'occhiaia Per prima cosa Proprio in questa parte iniziale dove nasce Senza portarlo troppo all'esterno Sulla palpebra E dove ho le imperfezioni più evidenti Che il correttore di prima non mi ha coperto Questo è leggermente più coprente Ha anche una consistenza un po' più appunto consistente Quindi è leggermente più pesante Però dosato bene Diciamo copre e dà un bel effetto Mentre l'altro ovviamente ha una formula più liquida Ripeto, questa è una base che non è molto coprente Però per il giorno, per tutti i giorni Va più che bene secondo me Dopodiché ovviamente vado a fissare il tutto Stavolta uso il primer di Puro Bio Che si chiama Luce Powder Che io uso come cipria Anche se è un primer ma può essere usato anche come cipria E anche se rispetto a quello della Mesauda Questo è bianco Però mi piace di più Perché ha una polvere più fina E anche se in cipria bene Veramente non si nota per niente Anche la cipria della Mesauda è buona Ma questa polvere è ancora più sottile E ne sto mettendo veramente poca Ovviamente una parte importantissima da incipriare È la palpebra Altrimenti il correttore va nelle pieghette Mi sono suppostata un po' Infatti vedrete che sono più luminosa Perché ho la finestra appiccicata al muro Quindi in base alle angolazioni della macchinetta Riesco a essere più o meno luminosa Ora passo agli occhi E prendo la terra di L'Oreal La Glam Bronze Che vi ho fatto vedere in diversi video La numero 03 Amalfi Medio E con un pennello La porto qui sulla piega della palpebra Per dare profondità all'occhio Penso che questo sarà l'unico ombretto Che metterò Perché comunque voglio fare un look leggero Da giorno E l'obiettivo, ripeto, è quello di provare L'eyeliner Cerco di sfumarlo il meglio possibile In modo però veloce E prima di mettere l'eyeliner Vado a mettere la matita Nella rima interna superiore Questa è la mia solita matita Della Essence La Long Lasting High Pencil E la colorazione è quella nera La numero 01 se non sbaglio Ho avvicinato lo zoom Sperando che riesco a farvi vedere bene L'applicazione E vado a prendere questo benedetto eyeliner Sinceramente ho abbastanza paura Verrà sicuramente un pastrocchio In realtà io voglio andarlo a mettere Solo alla fine dell'occhio E fare la godina Non lo metterò Nella rima superiore Allora il tratto è molto molto nero Scrive molto bene E scorre molto bene nella palpebra La punta non è molto dura Quindi dovete fare con delicatezza Altrimenti si muove Però allo stesso tempo è precisa Nel senso che se la utilizzate Nel modo giusto Vi dà un tratto molto preciso Questa è una mini 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 coda Voglio provare a farla un po' più spessa O almeno un po' più lunga Questa è la coda per ora In realtà non è super precisa Perché io non sono esperta Però per ora mi accontento E provo a fare la stessa cosa di qua Che non verrà mai Allora volete ridere Perché sorriderete E giustamente Guardate quanto sono diverse le linee Qui in pratica abbiamo un'egiziana E qui una cosa molto più delicata Insomma non sono per niente uguale Provo a rifare il tutto Sto andando a levare L'eccesso con un goton fioc Un po' umido Sto facendo un po' un casino Ma lo avevo previsto Vado a riprendere un po' di correttore Per coprire l'alone nero Vado a riprendere la liner E spero di essere più fortunata Allora questo è quello che è venuto fuori Questa coda mi piace molto di più Perché è molto più fina Delicata Ho messo anche in questa parte Meno eyeliner nella rima Diciamo superiore Sopra alla rima Qui mi è andato un po' più di eyeliner Quindi questo mi piace di più Perché volevo un effetto abbastanza delicato Vado a rimettere un altro po' di terra Qui Nella piega Credo che per ora mi accontenterò Anche se non è proprio il risultato che volevo Ma per mia colpa Perché proprio sono totalmente inesperta E vado a mettere il mascara direttamente Questo è il mascara Vamp Extreme di Pupa In realtà come eyeliner è molto buono Io sono un po' cionpa Come si dice Però il tratto è molto scrivente L'eyeliner è nero E scorre molto bene È preciso se riuscite ad utilizzarlo Nella maniera giusta Con un po' di allenamento Sicuramente ci si riuscirà Ed è quello che ho capito Anche la durata è buona Ve lo scriverò a fine video Quindi In generale ve lo consiglio E ovviamente mi sta salendo l'ansia Perché sono in ritardo Vado a riprendere la stessa terra di prima E velocemente Velocemente riscaldo un po' l'incarnato Senza fare niente di troppo pesante Lo metto nelle parti da contouring Anche se ripeto Vedete più che contouring Certo un minimo j Però è più riscaldare un po' l'incarnato Ora vado a mettere il California Della Benefit Con il mio solito pennello Angolato Questo qua E questo lo lascia abbastanza naturale Lo metto qui nella guancia E tiro un po' verso l'alto Però maggiormente Mi concentro nella guancia Velocemente vado a mettere Questo illuminante Ho un capello Tra le ciglia Questo illuminante Della Essential Che vi avevo fatto vedere Mi sembra nel video scorso Che è in polvere Sotto tono rosato Però è Più leggero Per esempio Rispetto ad Eros E' più naturale E' più naturale Diciamo Rispetto ad Eros E quindi Per il giorno Secondo me E' più adatto Se volete un look Un po' più semplice E lo metto nelle solite parti Dei zigomi alti Nell'arcato sopraccigliare Nell'arco di cupido E nel ponte E la punta del naso Sulle labbra Volevo fare qualcosa Di abbastanza naturale Credo che andrò Semplicemente A mettere Cosa che di solito Non faccio Un lucida labbra Trasparente E uso questo qui Che è incorporato In questo duo Della Kiko Che è anche questo Che avevo fatto vedere In qualche video fa Ve lo lascio sempre linkato Volevo andare anche A mettere Un colore Sotto Però Voglio fare una cosa Abbastanza naturale Oggi Andando a mettere Solo il lucido Ecco l'effetto Che vedete È naturale Ma con questo lucido Sono riavvivate E inoltre Danno un po' L'effetto Più rimbolpante Perché appunto È lucido Se fa sembrare Le labbra Un po' più Volumizzate Bene Questo è il video Di oggi Scusate Sono dovuto andare Un po' di corsa A causa del ritardo Sono veramente In ritardo Conclusioni finali Per l'eyeliner Ve lo consiglio Perché a parte Un po' di allenamento Secondo me È veramente Un buon eyeliner A un prezzo Non troppo elevato Io spero che questo video Vi abbia fatto compagnia Vi sia stato utile In qualche modo Ora corro a fare I capelli A dargli una sistemata Vi saluto Grazie per aver visto il video Grazie se avete lasciato un like Alla prossima Ciao Ciao